buongiorno a tutti buongiorno a tutti di che cosa parliamo ma di che cosa parliamo parliamo di altra altra running io sono innamorato di questa azienda sono innamorato della loro filosofia intanto solo per farvi vedere spessore guardate che tecnica in questo piccolo plantare 5 mm di altezza in questo plantare 5 mm di comfort puro però la particolarità di altra voi sapete è corsa naturale natural running avampiede aperto quindi cosa mi consente di utilizzare le nostre dita dei piedi in maniera naturale fa sì che l'alluce torna a essere utilizzato come sistema di controllo del nostro movimento sistema di controllo proprio della corsa e serve proprio il fucce davanti che sia aperto e largo guardate questa è la paradigm paradigm 4 quindi la scarpa che in questi anni in queste stagioni che abbiamo iniziato a trattare questo marchio abbiamo venduto di più uomo donna è la scarpa d'allenamento che mi permette di fare tanti chilometri per dirvi perché ci permette di fare tanti chilometri anche se ha lo zero drop perché è 34 mm di altezza ed essendo zero drop ce l'ho tallone mesopiede avampiede 34 mm equivale a una scarpa veramente molto molto ammortizzata molto protetta quindi non bisogna avere paura perché zero drop perché è una scarpa molto protetta la tomaia come vedete le tomaia è tutta rifatta la paradigm 4 è un'evoluzione importantissima ha subito un cambiamento fortissimo rispetto alla versione precedente l'inter suola intanto ha due densità è un inter suola fatta con due densità nella parte superiore è stato usato lab e bound nella parte inferiore dove c'è anche una guard rail c'è un supporto che mi aiuta a essere a dare stabilità alla scarpa è stato usato a leva bound che una loro è una loro prerogativa la utilizza solo in esclusiva questo materiale la altra la tomaia come vi dicevo è stata completamente cambiata e ha un nome specifico che si chiama quick dry air mesh è una tomaia senza cuciture le cuciture che sono state utilizzate sono cuciture termonastrate la scarpa da provare natural running ricordatevelo zero drop non ho differenza fra tallone e avampiede questo permette di disincentivare l'utilizzo del tallone come sistema ammortizzante come dico sempre sono scarpe da provare state aggiornati sui nostri siti e mezzi di comunicazione che faremo sicuramente un'altra giornata test sia qua a villa santa che a lecco niente venite a provarla ripeto paradigm 4 natural running altra un saluto e buona corsa a tutti ciao ciao ciao